La missione dello Spirito Santo è di generare armonia ed invochiamo con cuore ardente lo Spirito Santo chiedendogli di preparare la strada della pace e dell'unità. È l'appello di Papa Francesco nell'Omelia della Messa ad Amman, secondo momento del primo giorno di viaggio. Alla cerimonia erano presenti numerosi rifugiati cristiani dalla Palestina, dalla Siria, dall'Iraq. La pace, ha detto il Papa, non si può comprare. È un dono da ricercare pazientemente e costruire artigianalmente, mediante piccoli e grandi gesti che coinvolgono la nostra vita quotidiana. Il Cammino della Pace, ha aggiunto, si consolida se riconosciamo che tutti abbiamo lo stesso sangue e facciamo parte del genere umano, se non dimentichiamo di avere un unico Padre Celeste e di essere tutti i Suoi figli fatti a sua immagine e somiglianza. ...grandi gesti che coinvolgono la nostra vita quotidiana. ... ... ... ...